Buongiorno a tutti, eccoci al secondo video di recap settimanale sui mercati. Abbiamo appena fatto quello su Bitcoin, adesso passiamo a quello sull'S&P 500. Come vi dicevo la discesa è stata breve e siamo tornati ad aggiornare i massimi, quindi siete felici di avere un analista di questo tipo che vi racconta che potete andare a comprare sulle discese, ritornare long e riaggiorneremo i massimi nei tempi corretti? Mi auguro di sì, per essere tutto gratuito quindi l'invito è sempre quello a sottoscrivere se vi interessano queste analisi il canale, a cliccare sulla campanellina per sapere sempre quando ci sarà il prossimo aggiornamento e a fare tutte le domande che desiderate perché come sapete se non c'è polemica e se c'è costruttività rispondo a tutte le domande altrimenti si viene buttati fuori dal canale YouTube o non rispondo neanche su Investing. Allora, a che punto siamo arrivati? Siamo arrivati a un mensile che ha fatto le sue 29 barre 22 più 7 e che può tranquillamente proseguire a rialzo fino anche a 43 barre fino al 17 di settembre. Per cui facciamo un controllo sui cicli minori. Il nostro settimanale, il quarto t è arrivato già a 6 più una barra, quindi potrebbe essere persino già partito lassù un nuovo ciclo settimanale che però ha soltanto un giorno di rialzo e quindi non fa ancora testo. peraltro vi faccio notare che come al solito i simpatici americani si sono fatti un 7 barre provando a farci cascare nella possibilità che da qui sia partito un settimanale. Per cui in realtà vi dico che per me siamo a 9 barre e si può iniziare un po' a stornare nella prossima settimana per far partire un secondo t inverso, un secondo ciclo settimanale inverso. Perché? Per il fatto che se andiamo nel fine, se andiamo sul grafico a 15 minuti possiamo vedere come qui dove potenzialmente potrebbe esserci la partenza di un nuovo settimanale inverso, già vincolato peraltro a salire l'indice, abbiamo solo 32 barre su minimo invece 48 che richiederebbe appunto la partenza di un nuovo t inverso. Per cui questo t inverso sta continuando. E per questo motivo essendo già arrivati oltre i 6 e a 7 da qui in avanti bisogna vedere se ci lasciano un po' di spazio per arrivare almeno anche qui a 48 barre per far partire un nuovo settimanale, un nuovo t e qui siamo a 26 ma ripeto bisogna arrivare fino ancora a 48 per avere un minimo di t-2 rialzista che faccia da kickstart da partenza per un nuovo settimanale da qui. Se invece ritorniamo prima sotto avremo un settimo t-3 ed un eventuale ottavo t-3 anomali per poi appunto ripartire. Quindi non caschiamo nel tranello che da qui sia partito qualche cosa di nuovo. A tutti gli effetti non abbiamo il tempo per far partire un nuovo settimanale inverso e quindi il settimanale inverso per ora partito da qui è arrivato a fare i suoi 7 t-3i con 244 barre circa appunto di salita. Quindi per la prossima settimana possiamo ancora continuare ad aggiornare i massimi? Sì, anche perché possiamo andare a 8, 9, 10, 11 t-3. Iniziamo però ad essere saliti tanto, ok? Quindi facciamo attenzione perché alle prime violazioni di swing, e qui ce ne sono tanti peraltro di vicino, bisogna fare attenzione a che ci sia un ritorno appunto verso la media mobile a 200 periodi questa in blu. Mi sembra di aver detto abbastanza tutto. Se queste analisi vi piacciono, sottoscrivete gratuitamente il canale di YouTube, mettete iscriviti vicino al mio nome, cliccate sulla campanella in modo da sapere quando ci sarà la prossima analisi e sapete che oltre all'S&P 500 analizzo anche appunto Bitcoin, DAX e Fuximib, che sono i mercati più richiesti in assoluto e che probabilmente da settembre seguirò con molta più attenzione, lo sanno nel PURS 500, perché mi sono proposto un obiettivo e voglio fare una gara. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like.